Con tante funzionalità mirate, la sezione Strumenti AI ti aiuta grazie all'intelligenza artificiale a risolvere i piccoli problemi di ogni giorno legati alla creazione di contenuti. La sezione racchiude una serie di strumenti semplici, intuitivi e immediati che aiutano a svolgere meglio il lavoro di scrittura per tutte le figure professionali coinvolte nel processo, dall'editore al copywriter. Ecco alcune informazioni tecniche utili per conoscere gli strumenti. Tutti questi strumenti sono alimentati da intelligenza artificiale, basata attualmente su GPT 3.5 e presto GPT 4, guidata da prompt realizzati su misura per le esigenze dei creatori di contenuto. Inoltre, ogni utente ha la possibilità di inviare una richiesta per la creazione di una funzione specifica da aggiungere al pacchetto, laddove possibile con la tecnologia. È bene ricordare che le informazioni presenti negli output sono generate direttamente dall'intelligenza artificiale e in alcuni casi potrebbero non essere precise, accurate o aggiornate, anche per la latenza del sistema di intelligenza artificiale e necessitano quindi sempre di un controllo e di una revisione da parte umana. L'interfaccia delle funzionalità è davvero essenziale, con istruzioni che spiegano e guidano l'utente. In ogni tool è presente un form da compilare per istruire la generazione del contenuto. Tutti questi strumenti hanno un costo a consumo conteggiato a parola, che è considerato extra rispetto all'abbonamento alla suite, ed è possibile ricaricare il credito in modo facile e rapido. Un banner dedicato mostra il costo a parola che va confermato prima di utilizzare il tool. Una volta generato il contenuto testuale, in alto è indicato il costo dell'ultima operazione. Il contenuto una volta generato verrà poi spostato nella tab history e tramite la clipboard può essere velocemente copiato negli appunti. La prima icona invece serve a reinserire nel form le informazioni utilizzate, utile quindi per migliorare la compilazione e procedere a una nuova generazione testuale. Gli strumenti AI si trovano nel menu degli strumenti editoriali e questi stessi tool sono stati aggiunti anche alla versione del piano editoriale dedicato ai copywriter. La dashboard pensata su misura per chi scrive è che tramite suo zoom vuole entrare in contatto con editori interessati mettendosi a disposizione per possibili collaborazioni. L'accesso alla piattaforma copy è completamente gratuito, si può creare un account senza impegno e senza pagare nulla fino a quando non si deciderà di effettuare una ricarica del credito per utilizzare gli strumenti. La sezione strumenti AI è una vera e propria cassetta degli attrezzi che si arricchisci nel tempo anche grazie alle tue richieste.